Sono tornate le tende nel cortile di Palazzo Bo, la sede dell'Università a Padova. Questa volta però la protesta degli studenti non è legata all'emergenza abitativa, ma per manifestare solidarietà al popolo palestinese. Abbiamo deciso di lanciare la nostra tendata in risposta alla mobilitazione globale che si è spesa anche in Italia questa settimana. Ci sono tende a Napoli, Bologna, Roma e Palermo. E poi questa è data anche perché ci troviamo davanti al momento finale del genocidio in corso in Palestina con l'invasione di Rafah. E quindi noi vogliamo con la nostra occupazione denunciare la complicità di governo e università con i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità che sta commettendo Israele. Un boicottaggio accademico degli accordi dell'università con Israele, questo chiedono gli attivisti che hanno deciso di piantare le tende nei due cortili sotto il rettorato. Negli scorsi senati accademici l'unica risposta della rettrice e dei senatori accademici è stata la repressione, il manganello, la militarizzazione totale di questo palazzo che oggi però ci siamo ripresi nel controllo di quello che deve essere il discorso all'interno dell'università che deve preoccuparsi di quello che sta succedendo a Gaza perché ne va della dignità di un popolo intero, ne va della resistenza di un popolo intero che va supportato in tutte le maniere e noi lo vogliamo fare attraverso il boicottaggio accademico. La protesta proseguirà nelle intenzioni dei manifestanti almeno fino al senato accademico di martedì. Tra le parole d'ordine di questa intifada studentesca, come è stata definita, c'è stop al genocidio scritta apparsa anche sul muro del caffè Pedrocchi. Pensiamo che debba destare scandalo il numero di morti in questo momento in Palestina più che una scritta sul muro. Sia importantissimo in questo momento cercare di porre l'attenzione il più possibile su quello che sta avvenendo a Rafah e quello che sta avvenendo da mesi e anni al popolo palestinese. Rispetto alle scritte sul muro riteniamo che le istituzioni dovrebbero preoccuparsi di altro.